Vediamo quindi questo primo match di questo U Tournament numero 1, visto che non esiste più il Qsplay e il Qsmash, ma esiste lo U Tournament. U Tournament numero 1, visto che non esiste più il Qsmash, ma 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 esiste più il Qsmash. La cosa che avevo chiesto prima di mettere i controller là, perché non l'avete fatta? Grazie! 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 La parte del commentary di questo il primo game che evidentemente era un button check. Che palle Vediamo questo match Fra Iraq e Dex Che abbiamo già visto molteplici volte In questa regione toscana Toon Link contro Corrid Sì, sì, vai, vai Quindi speriamo che non ci sia troppo rumore Anche se verosimilmente c'è Quindi vediamo Corrid contro Toon Link Su Town and City Chi cavolo fa lì col boomerang che non c'è Ok, up tilt, up tilt Classico, roll up tilt, up tilt, up tilt Up smash, boomerang, nair A momento Dex decisamente in difficoltà Costretto al bordo Questo up smash, buono Il punish di side B E ancora il counter, grandissimo Questo inizio Questa ripresa a parte di Dex Che ora sta recuperando percentuale Buono il nair Ancora Dex Adesso impreda i proiettili dell'avversario Non riesce a intercettare questo Boomerang, ottimo Ancora è classico Il boomerang che torna indietro in top smash Classico di Fra Iraq Buona la punch qua di boomerang in tua fear Esplode la bomba però Cerca di grabbarlo Ma non trova la grab Bomba in a pair Ottimo Trova la prima kill Sull'avversario Sia poi la bomba Grandissima giocata a parte di Dex Che concede quindi il primo game A fra Iraq Vanno sull'1 a 0 Inizio quindi quest'altro game su Town in C Tra i due giocatori Spino 6b Ottimo Non trova però il follow up Dex qua Inizia lo spam selvaggio E al momento il vantaggio però di Dex Non ha nessuna fretta di raggiungere l'avversario Ma ecco che arrivano le prime percentuali Il nair non viene punito correttamente Ah il down tilt troppo lento Buona la grab qua sul boomerang Point blank Sicuramente non safe Down tilt Up air Ottimo Dex Sembra essersi ripreso Dopo quell'SD precedente Ma ecco che arriva il primo up smash L'effet smash Ottima punish Su quel down air Non safe Da parte di Dex Trova questo up tilt Niente up air Ah un up smash in realtà Ah non riesce a trovare Purtroppo la piazza forma impedisce correttamente Ok ci siamo Scusate interruzione Purtroppo c'è stato qualche problema con OPS Ritorniamo quindi al game Ora chiaramente even tra i due giocatori Oh no si è iniziato i tamburi Uccidetemi Che succede? Vabbè intanto sono iniziato i tamburi qua C'è la molezia Si suicida qua Dex purtroppo Dando quindi anche il secondo game A Flarek Eh Si come si chiama? Eremita viola Tutto che non c'è C'è la sera Mett succede Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.